Chi sono le madri adolescenti? Le madri adolescenti sono mamme molto giovani, quindi comprese da un'età dai 15 ai 21 anni, quindi considerando un po' due fasce, dai 15 ai 18, che sono più a rischio per la relazione col bambino, e poi tra i 18 e i 21, in cui comunque c'è una certa difficoltà a impattare e incontrare il bambino. E quali sono i rischi? I rischi sono un po' doppi, un po' per la mamma, che si trova un po' in conflitto tra proseguire il suo percorso di crescita verso l'età adulta e occuparsi del bambino, quindi ad esempio rischio depressione, rischio di grosso stress a livello genitoriale, e per il bambino possibilità di ritardi nello sviluppo cognitivo-linguistico e anche andando avanti un rischio psicopatologico. In Italia il fenomeno è omogeneo? C'è da dire che il fenomeno è un po' diverso dagli altri paesi, sia anglosassoni, sia altri paesi europei, quindi la quota di mamme under 18 è abbastanza bassa, e c'è un po' un picco in tre regioni, che sono Sicilia, Campania e anche Lombardia, con un picco nella città proprio di Milano. Cosa si può fare per aiutare le madri adolescenti? Sicuramente è molto importante monitorare o accompagnare la crescita di mamma e bambino nel primo anno di vita, e per questo è stato un po' inaugurato questo servizio che si chiama Saga, che è proprio un servizio di accompagnamento alla genitorialità adolescente, che è finanziato da Regione Lombardia, materialmente nell'ospedale San Paolo, e coordinato scientificamente da Bicocca, che è un servizio proprio di accompagnamento alla crescita di mamma e bambino nel primo anno di vita. Ci sono altri paesi dove il fenomeno è particolarmente diffuso? In Inghilterra, Belgio e Stati Uniti, dove veramente è molto più elevato che da noi, e dove hanno messo a punto dei programmi di prevenzione massicci proprio per questo motivo. Qual è l'origine di questo fenomeno? Questo fenomeno è legato a altri fattori di rischio che sono connessi all'essere mamma in adolescenza, che sono avere interrotto gli studi, non avere un lavoro, quindi una sorta di vuoto d'identità, per cui la gravidanza diventa qualcosa che permette in qualche misura di avere un progetto. Il tema poi è che questo progetto diventa difficile nel momento in cui nasce il bambino e la mamma si trova a confrontarsi con l'accudimento del bambino. Quali sono stati i risultati raggiunti attraverso il servizio Saga? Alcuni risultati sono stati molto positivi, nel senso che a partire da una situazione di difficoltà nell'incontro di queste mamme con i loro bambini, quindi scarsa empatia anche, siamo riusciti a molto migliorare la capacità di empatia, quindi quella che viene, chiamiamo, sensibilità della mamma verso il bambino, quindi molto più responsiva verso i bisogni e le emozioni del bambino, e anche i bambini molto più capaci di interagire. Grazie. 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 Grazie.